salve care amiche ed amici qui il vostro sante gian oggi vi voglio parlare di una cosa che a tutti noi ci è piaciuta perlomeno quando eravamo bambini ragazzini che ci ha divertito intrattenuto forse educato svagato beh a chi non sono piaciuti i cartoni animati da piccolo e quindi adesso oggi vi voglio fare vedere dei cartoni animati perché sono sempre divertenti ecco qua i cartoni animati i cartoni animati i cartoni animati che divertente che bello non solo tre perché sono anche grandi avrei dovuto prendere dei cartoncini ma si trattava di farvi vedere dei cartoni animati non delle cartoncini eccetera ecco quindi questi sono i miei cartoni animati ne ho degli altri ma questo è giusto per scassare le scatole un buono ecco qua i cartoni animati e con questo il vostro sentenza vi saluta a un altro commentario intelligente che registrerò però per il momento spero vi stiate divertendo guardando i miei cartoni animati un saluto ciao ciao i cartoni animati e questo che cos'è che divertenti i cartoni animati io da piccolo guardavo tanti cartoni animati e ciao